E' fuori corsa la leva di Verotti, parte piano Nuvolari, out di VG con a largo Provenza OM ed in diagonale Ollier-Britt, passa Provenza, ma ora a destra c'è subito Mario Minopoli con il suo Ollier, tanto i 200 in 13.8, passa Ollier-Britt su Provenza OM ed out di VG. Risalgono a largo il 7 di Niklas A.S. con in schiena il 12 di Pierino, mentre rimane chiuso per il momento il favorito Nuvolari, 29.7 i 400 metri e Ollier-Britt ferma di passo. E viene via Niklas A.S. e Niklas A.S. va a chiedere strada a Ollier-Britt, mette anche mezza lunghezza davanti all'avversario, i due si attaccano, 44 spaccato, e mentre Nuvolari di Casei è andato a prendersi l'ultima pariglia esterna. E continua Niklas A.S. a forzare su Ollier-Britt, infatti gli 800 abbastanza veloci in un minuto, si viaggia da 1.15, in seconda pariglia c'è Pierino, in terza nord-est, mentre in ultima pariglia Nuvolari di Casei, che ora accenna la terza ruota. chilometro in 1.14.9 e viene via Nuvolari di Casei dalla coda, in terza ruota prende anche l'anticipo da Pierino, e i due in terza e quarta ruota vanno sui primi, allunga Ollier-Britt, Nuvolari di Casei vuole scavalcare Pierino, che a sua volta cerca di scavalcare i cavalli all'interno, ed è veramente l'azione di Nuvolari di Casei che agguanta finalmente la testa della corsa, e in retta d'arrivo ora sferra l'attacco finale ad Ollier-Britt. Nuvolari di Casei viaggia meglio, anche se gli è venuta davvero malissimo, Nuvolari oggi, ed un altro cavallo in questa compagnia, Nuvolari, Ollier-Britt, Pierino, quarto a otto di VG, 1.59.3, 1.14.5, ma secondo me la prestazione di Nuvolari di Casei è altro che 1.14.5, credo che sia da tarare intorno all'1.13, perché la scelta tattica di Antonio probabilmente non è risultata la migliore. Per il secondo Ollier-Britt e Mario Minopoli portano a casa una meritata seconda moneta, mentre un ottimo Pierino, al rientro, porta a casa un terzo posto salvandosi da otto di VG. È tutto, ritorna la vittoria del bambolotto.